Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del Tg6. Questo pomeriggio è la cabina di regia ministeriale in cui si è deciso che l'Abruzzo resterà zona arancione anche per la prossima settimana, anche se siamo comunque in attesa della proroga dell'ordinanza regionale da parte di Marsilio per quanto riguarda la zona rossa nel Pescarese e nel Chiedino. L'ordinanza regionale infatti scadrà domenica. Oggi intanto 594 nuovi casi di Covid nella nostra regione. Vediamo il servizio. L'Abruzzo resta zona arancione, lo ha deciso la cabina di regia ministeriale in quanto l'indice di contagiosità RT è a 1,13 e rientra nella fascia di medio allarme. E' attesa da Marsilio però la proroga dell'ordinanza regionale in scadenza domenica che dispone la zona rossa per il Pescarese e il Chiedino. Oggi 594 nuovi casi in Abruzzo, il 6,6% degli 8.929 test analizzati tra antigenici e molecolari. Tasso di positività che sale a oltre il 10% se si considerano solo i molecolari. Il più piccolo tra i contagiati ha 7 mesi, il più anziano 102 anni. Oltre il 73% dei nuovi casi riguarda l'area Pescara-Chieti. Nell'ultima settimana 3.341 persone si sono ammalate di Covid, l'1,3% della popolazione negli ultimi 24 giorni. Oramai si può parlare sicuramente di terza ondata qui in Abruzzo, comunque nell'area metropolitana, perché i numeri sono veramente tanti. Un quarto dei positivi ha contratto la variante inglese, compreso il paziente di Avezzano, caso accertato dallo Spallanzani di Roma, che era sospettato di avere la variante sudafricana. La percentuale dei contagi da variante inglese sale al 70% se si considera solo l'area metropolitana. Se girano queste varianti ci può essere il rischio anche per chi si sta vaccinando, che poi la finalità ultima è vaccinare il maggior numero di persone per creare una specie di immunità di greggio e per proteggere la collettività, oltre che se stessi. Oggi il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1.689. Avevano un'età compresa tra i 56 e i 96 anni. 487 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 12.731 positivi accertati, 97 in più rispetto a ieri, al netto dei nuovi casi dei deceduti e dei guariti. 614 pazienti, più 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 74 in terapia intensiva, meno 4 rispetto a ieri ma con 4 nuovi ricoveri, mentre gli altri 12.043, più 95 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E ora la cronaca, in seguito a una lunga e difficile indagine antidroga, il comando provinciale dei carabinieri di Teramo ha eseguito questa notte tre arresti domiciliari. Tra le persone in stato di fermo anche un loro collega, il vicebrigadiere Franco Caviti, che spacciava e consumava cocaina. Tania Bonici Castelli. Operai, impiegati, imprenditori, liberi professionisti, tutti incensurati, residenti a Teramo, Penna Sant'Andrea, Basciano e Torricella Sicura. Era questo il giro dei clienti ai quali Franco Caviti, 51 anni, carabiniere appartenente al comando provinciale di Teramo, spacciava cocaina purissima, a volte anche in caserma. Dopo sei mesi di indagine molto delicata, coordinata dal procuratore Davide Rosati, Gli stessi carabinieri del comando provinciale Teramano hanno indagato sei persone ed eseguiti tre arresti domiciliari per spaccio di cocaina, emessi dal GIP del Tribunale di Teramo, Lorenzo Prudenzano, su richiesta della Procura della Repubblica. Tra gli arrestati, il loro collega. In esito a questa vicenda, l'altra parte di particolare rilievo è il fatto che in occasioni come queste, l'arma dimostra di avere nel proprio interno la capacità di rilevare queste situazioni critiche e di muoversi per rimuoverle immediatamente. Questa indagine è stata condotta proprio perché vi erano sospetti sulla condotta di questo militare e l'arma è intervenuta immediatamente senza tirarsi indietro e vincendo tutte le condotte elusive che il militare teneva per sottrarsi ad eventuali indagini. Come dicevo prima, questa è la dimostrazione che l'arma, gli anticorpi li ha, sono molto efficaci e sono non solo tempestivi, ma immediati e rimuovono immediatamente situazioni di imbarazzo come poteva essere questa. L'indagine sul carabiniere Puscher avrebbe messo in luce che Caviti, vicebrigadiere alla stazione di Castelnuovo-Vomano, spacciava solo per garantirsi le dosi che lui stesso consumava. Il suo tenore di vita, infatti, non era cambiato. Gli altri due arrestati sono Roberto Tarquini, 46 anni, e Antonio Tortella, di 36, entrambi già noti alle forze dell'ordine per spaccio di stupefacenti. L'interrogatorio di Piccone e Santilli nell'ambito dell'inchiesta Acqua Fresca che ha decapitato l'amministrazione di Celano. I due che nel comune rispettivamente ricoprivano la carica di vice sindaco e sindaco si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. E ieri, intanto, primo incontro tra il prefetto dell'Aquila e il commissario prefettizio e consiglieri comunali, il servizio di Luca Pulsoni. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere l'ex parlamentare Filippo Piccone e il sindaco di Celano, Settimio Santilli, i due principali indagati nell'inchiesta Acqua Fresca che ha decapitato l'aggiunta del comune marzicano. I due sono stati ascoltati ieri dal GIP del Tribunale di Avezzano, Maria Proia. Piccone è detenuto presso il carcere di Vasto, mentre Santilli è agli arresti domiciliari. L'inchiesta sui appalti truccati ha portato a otto arresti e 17 misure restrittive per un totale di 56 persone denunciate. Nella giornata di ieri, primo incontro tra il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, il neocommissario prefettizio Giuseppe Canale e i consiglieri comunali. Il consiglio non è ancora sciolto, mentre Piccone ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale e da vice sindaco. Secondo l'articolo 2 della legge 182 del 1991, si sarebbe potuto tornare alle urne già nella primavera 2021. Qualora Santilli avesse rassegnato le dimissioni da primo cittadino, i tempi sono destinati a slittare, con le nuove elezioni fissate al 2022 dopo l'anno di commissariamento. Il sindaco Santilli, apparso piuttosto provato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, scioglierà le riserve sulle dimissioni nei prossimi giorni. Il castello difensivo dei due, formato dagli avvocati Antonio e Pasquale Milo del Foro di Avezzano, avanzato al GIP la richiesta degli arresti domiciliari per Piccone a causa di problemi di salute. L'ex deputato e senatore di Popolo della Libertà e Forza Italia soffre di patologie cardiache ed epatiche ed è in cura presso il Policlinico Gemelli di Roma. Autostrade questa mattina all'Aquila si è aperta, ma è stata subito rinviata al 9 giugno l'udienza davanti al GUP per la gestione della A24 e della A25. E intanto Rifondazione Comunista, che ha effettuato un sit-in fuori da Palazzo di Giustizia, chiede che dopo il Ministero anche la Regione Abruzzo si costituisca parte civile. E il Codacons lancia oggi un'azione risarcitoria per i cittadini che utilizzano la rete autostradale A24 e A25 è finalizzata a far ottenere agli utenti il risarcimento dei danni per i rischi corsi sul fronte della sicurezza dopo l'inchiesta della Guardia di Finanza che aveva appurato la mancata manutenzione. Alfredo Primante. È stata rinviata al 9 giugno l'udienza davanti al GUP dell'Aquila sull'inchiesta della Procura in merito alle vicende della A24 e da A25 con il giudice che ha accolto la richiesta di legittimo impedimento presentata dai difensori di strada dei parchi e del patron Carlo Toto ricoverato per Covid dal San Raffaele di Milano. Intanto si è appreso che hanno presentato richiesta di costituzione di parte civile sia il Ministero dei Trasporti che le associazioni Codici e Feder Consumatori oltre all'Associazione Italiana Vittime della Strada. Questa mattina davanti al Tribunale dell'Aquila c'è stato un presidio di rifondazione comunista con il leader Maurizio Acerbo che chiede che anche Regione Abruzzo si costituisca parte civile. Oggi c'è stato un fatto positivo al contrario dell'udienza precedente si è presentato finalmente dopo le nostre proteste il Ministero che si costituirà parte civile in quanto parte l'ESA. Ora noi diciamo la Regione Abruzzo, la Regione Lazio che si costituiscono perché i cittadini utenti hanno pagato le tariffe più alte d'Italia per non avere la manutenzione dell'infrastruttura autostradale. Poi ricordiamo un'altra cosa che è ora di porre la questione della fine della privatizzazione delle autostrade. Riprendiamoci le autostrade. Le autostrade sono infrastrutture pubbliche, sono state realizzate con denaro pubblico ed erano gestite da società pubbliche che erano inattivo quando sono state privatizzate. L'esperienza con i privati dal ponte di Genova fino all'Abruzzo si è rivelata una truffa ai danni dei cittadini. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno presentato 5 domande al Presidente Marsilio sulla gestione della questione sanitaria, economica e sociale a un anno ormai dallo scoppio dell'epidemia. Sulla gestione dell'emergenza Covid nella nostra Regione il Movimento 5 Stelle pone 5 domande al Presidente Marsilio partendo proprio dall'emergenza sanitaria ma parlando anche poi di sociale ed economia. Perché queste 5 domande? Perché l'Abruzzo è in profondo rosso e cioè è la Regione che di fatto a parte qualche piccola interruzione è in zona rossa da novembre ad oggi. Per cui evidentemente qualcosa non funziona nella gestione della pandemia regionale. Il Presidente Marsilio si adopera per attribuire le colpe al Governo nazionale ma se Regioni e a noi limitrofe, penso a Lazio, non hanno passato un giorno in zona rossa e l'Abruzzo invece, nonostante gli screening di massa, è in zona rossa di fatto da novembre evidentemente qualcosa non sta funzionando. Cosa in particolare non vi ha convinto in questa gestione dell'emergenza? Sì, intanto appunto gli screening di massa e cioè vengono effettuati screening di massa con i test rapidi, non con i test molecolari. Test rapidi che sappiamo dare molti falsi positivi ma soprattutto molti falsi negativi. Non si sta facendo una campagna di informazione per dire alle persone che si sottopongono al test e che sono negative che quel dato potrebbe essere anche sbagliato, che potrebbero essere asintomatici positivi. E questo ci fa pensare, visto che comunque le persone continuano ad ammalarsi, i contagi crescono, le terapie intensive sono sempre più sature, che evidentemente non è stata fatta questa campagna. Oltre a questo c'è la parte economica della gestione Covid e cioè i 60 milioni di Euro che il Regione Abruzzo ha ottenuto dal Governo nazionale per implementare le infrastrutture e per l'assunzione di personale, dove sono finiti? Visto che le infrastrutture non sono state migliorate e che gli ospedali sono sempre al collasso, soprattutto le terapie intensive. Altra domanda, è passato quasi un anno dall'approvazione del Cura Abruzzo 1, 46 mila imprese hanno fatto richiesta di questo contributo regionale, soltanto 11 mila hanno ottenuto il pagamento. Quando intenderà il Presidente Marsilio pagare queste imprese? Come? Da ultimo, quando pubblicherà un calendario delle vaccinazioni. Le aziende del wedding e i numerosissimi addetti a tutta la filiera del matrimonio scendono in piazza per chiedere ristori, ma anche di poter tornare a lavorare con le cerimonie che sono ferme da un anno. Manifestazione questa mattina in piazza della Rinascita Pescara dei titolari e dei lavoratori delle imprese che operano intorno al mondo del wedding per chiedere risposte immediate al Governo e dalle istituzioni a sostegno di un comparto particolarmente colpito dall'emergenza Covid. La manifestazione pescarese denominata Insieme per il wedding è stata organizzata da Marina Franceschini, presidente dell'Associazione Atelier Sposi e Cerimonie aderente a Confcommercio Pescara e si è tenuta in contemporanea in tantissime altre piazze sul territorio nazionale per denunciare la pesante sofferenza del settore. Esattamente, ci siamo uniti noi del comparto wedding dalla mia idea è stata subito sposata da Stefania Vismara di Udine e così naturalmente ci siamo uniti in tutta Italia oggi siamo 14 piazze dove rappresentiamo il comparto wedding nella maniera più grande e scenderemo, torneremo in piazza il 26 di marzo per chiedere attenzione, per chiedere aiuto e per chiedere in modo particolare una data certa sulle riaperture seguendo dei protocolli anti-Covid ben specifici. Siamo un comparto che fa 25 miliardi di fatturato annuo che dà lavoro a un milione di lavoratori stagionali e regolarmente assunti che ha affrontato una stagione ferma, abbiamo lavorato al 10% quindi abbiamo una perdita ingente e stiamo affrontando la stessa perdita per il prossimo anno in quanto le cerimonie 2020 sono state spostate al 2021 che attualmente sono ferme quindi ci stiamo proiettando a un successivo fermo e quindi stiamo andando incontro al secondo anno di fermo. E ora la cultura, la compagnia tetrale e gli sbandati di Teramo celebra i 700 anni della morte di Dante Alighieri con uno spettacolo online. Gli attori della compagnia reciteranno in diretta streaming il ventitresimo canto del Paradiso l'appuntamento è per mercoledì 3 marzo alle 18.30 i dettagli nel servizio. In occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri e delle onoranze che sono tributate al sommo poeta in tutta Italia la compagnia teatrale e gli sbandati di Teramo propone una lezione spettacolo sul canto ventitresimo del Paradiso. Si tratta di un'operazione del tutto innovativa poiché, data la chiusura dei teatri lo spettacolo sarà fruibile online e chiunque potrà goderne direttamente a casa. In diretta streaming reciteranno gli attori Viviana Casadio, Marina De Carolis e Renato Piscella. L'interpretazione sarà preceduta da una lezione sul canto tenuta dalla regista Asteria Casadio. La regia tecnica sarà curata da Remo Leonzi. Un'operazione questa proposta dalla compagnia che vuole essere non solo un omaggio a Dante simbolo della nostra più bella letteratura e dell'Italia ma offrire anche in un difficilissimo momento per le arti e per il paese attimi di riflessione e di meraviglia attraverso le parole e la bellezza del canto ventitresimo. L'appuntamento è dunque per mercoledì 3 marzo alle ore 18.30. Il pubblico interessato potrà prenotare il proprio accesso allo spettacolo scrivendo sulla pagina Facebook della compagnia teatrale Gli Sbandati. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Partiamo con il calcio di Serie B. Per la gara di domani alle 14 contro il Lecce il tecnico del Pescara, Grassadonia, non recupera Seterre Sorensen e perde nella rifinitura di stamani anche Tabanelli. Problemi anche per Bocchetti che si è fermato ieri e per il quale si deciderà domani. Appare comunque difficile un suo recupero. è pronto Gut per la sostituzione. Grassadonia però non dispera e si aspetta una prova coraggiosa da parte della squadra. Direzione di gara affidata a Robilotta di Sala Consilina. Facciamo il punto con Andrea Costantini. Domani il Pescara affronta una corazzata del campionato, il Lecce, ma l'input che lancia il tecnico biancazzurro Gianluca Grassadonia complice anche alla brutta classifica è chiaro. Bisogna usare di più, essere propositivi perché urge la vittoria. Su questo atteggiamento più offensivo si è lavorato in questi giorni. Abbiamo avuto una settimana in più di tempo per lavorare, per cercare di dare dei concetti diversi, di lavorare su quello che avevamo fatto in questi quattro giorni prima di Frosinone e quindi cercheremo di mettere in campo una formazione che possa avere prima di tutto equilibrio e poi che possa cercare di fare qualcosina di più per quanto riguarda la fase di possesso palla. sta cercando di lavorare con grande serenità su tutto insomma perché bisogna toccare tutti i tasti prima di tutto quello della testa, dell'autostima, della consapevolezza perché questa è una squadra che ha qualità che ha dei giocatori che assolutamente devono e possono tirar fuori il pescara da questa situazione attraverso il lavoro quotidiano duro perché lavoriamo tanto e cercare di entrare nella mentalità di giocarsi le partite. Gli infortuni continuano ad obberare il gruppo Tabanelli si è fermato oggi per un problema muscolare ed è out Bocchetti si è fermato ieri ed è praticamente fuori non recuperano Setter, Sorensen, Rigoni e Riccardi Grassadugna prosegue con il 3-5-2 con alcune novità rispetto alla partita di Frosinone in attacco si avvicina il debutto di Nicolo Giannetti che scalpita dopo una buona settimana di lavoro e può strappare una maglia da titolare a Odgard il centramanti danese che finora non ha mai trovato la via del gol in sei presenze biancazzurre mentre Giannetti l'ultima rete l'ha segnata nel dicembre 2019 l'altro attaccante sarà Galano l'uomo dal quale Grassadugna si aspetta il salto di qualità per superare l'anemia offensiva a centrocampo Maestro ha scalato posizioni ed è in vantaggio su Macin con lui Busellato confermato in regia e De Sena Bellanova a destra Anzita in vantaggio su Masciangelo a sinistra trio di difesa composto da Gut Drudi e Scognamiglio a meno di un improbabile recupero di Bocchetti nel caso gli farebbe spazio Gut Partirà dalla panchina Memushai per il quale Grassadugna pensa ad un ruolo in regia nelle prossime partite appena avrà riguadagnato una migliore condizione le aspettative di Grassadugna Io sono convinto che la Serie B è un campionato come dico sempre che non finisce mai domani dobbiamo trovare la prestazione bisogna che la squadra faccia una gran partita da un punto di vista caratteriale che è quello che avevo chiesto a Frosinone e ho visto e poi bisogna alzare i giri quando siamo in fase di possesso palla oggi questa settimana abbiamo lavorato tanto su quello che era un'alternativa a quello che abbiamo fatto a Frosinone e vediamo domani insomma come prepararci a questa gara abbiamo ancora una giornata di tempo bisogna tenere bene in mente quella che è la posizione di classifica quello che bisogna fare per uscire da questa posizione di classifica ci sono tutti i presupposti per far sì che questo succeda ed è chiaro che bisogna avere degli atteggiamenti giusti otto le assenze nel Lecce spiccano quelle di Aja Pong Calderoni Nicolov e Pisacane il tecnico Corini ha però recuperato Taxidis Henderson e Rodriguez nel 4-3-1-2 davanti al portiere Gabriel agiranno Maggio Lucioni Meccariello e Gallo in mediana Bjorkengren Taxidis e Juhlmand Rodriguez dovrebbe affiancare coda ballottaggio Henderson Mancosu come trequartista cambia poco cambia poco perché sono due giocatori di qualità magari uno è più dinamico dell'altro l'altro è qualcosa in più stiamo parlando di giocatori comunque forti stiamo parlando di una squadra che è stata costruita per vincere quindi è una squadra che ha potenzialità è stata fermata voglio dire soprattutto dal Covid perché hanno perso il loro principale attore che è Corini che è un valore aggiunto e adesso ha ricominciato a camminare a correre a correre quindi sarà una sfida importante per noi importante per loro ma grande fiducia dobbiamo avere nell'affrontare questa gara e oggi in tarda mattinata dopo la rifinitura al Via del Mare ha parlato anche l'allenatore del Lecce Eugenio Corini che ha presentato così la partita ascoltiamolo Marco è pienamente recuperato ha già giocato l'ospensione di partita subentrando nella partita col Cosenza ho già comunicato la formazione che partirà domani se non ve la dico è solo per un discorso legato a non dare nessun tipo di vantaggio al Pescara la riflessione che ho fatto in funzione dei giocatori disponibili purtroppo siamo un pochino corti a centrocampo perché a parte di Stoschi che sta curando la tendinite di cui siete a conoscenza anche Nicola aveva avuto questa faringite che non me l'ha reso disponibile siamo un po' corti a centrocampo e di conseguenza ho fatto un po' di valutazioni in funzione della formazione che affronterà il Pescara ma anche in funzione di quella che sarà la squadra che potrà affrontare l'Intella martedì abbiamo invertito il trend ma voglio dire abbiamo un'altra prova difficile contro una squadra forte esperta come il Pescara che ha cambiato l'allenatore nella partita precedente la nostra andando a pareggiare Frosinone sappiamo che il Frosinone è un'ottima squadra sappiamo già che domani troveremo un avversario forte perché se si va a scorrere la rosa del Pescara si vede le caratteristiche le qualità che hanno i giocatori che compongono appunto la rosa dunque sappiamo già domani che è un'ulteriore prova per noi per mettere in campo i miglioramenti che abbiamo fatto intravedere nelle ultime partite e certificarli facendo un'alta grande prestazione e cercando di portare a casa un risultato importante anche da trasferta di Pescara Serie C altre grane in infermeria per il Teramo il tecnico Massimo Paci perde per problemi muscolari l'esterno K e il centrocampista Viero che saranno indisponibili per il match con la Paganesi assieme anche ai lungodegenti Lasic e Minelli e i due calciatori che si sono infortunati contro il Potenza ovvero Birligea e Di Matteo ci sarà invece uno degli ultimi arrivati l'attaccante esterno Nigel Kermateng italiano di origini nigeriane che si è presentato e ha parlato delle sue aspettative e dei suoi trascorsi nelle giovanili del Milan se la velocità a guardarti in mezzo al campo c'è adesso probabilmente servono i gol sì esatto partendo già da mercoledì scorso che potevo insaccarla subito alla seconda presenza solo che sono arrivato un po' sbilanciato un po' pressato quindi è finita fuori però comunque penso che ci sarà occasione ancora cosa ti aspetta insomma da questa da questa esperienza allora io vengo da un periodo abbastanza lungo di inattività quindi ora sto lavorando per dare il meglio che Nigel può dare da qui fino alla fine della stagione che sia entrare a partita in corso che sia gli ultimi tre minuti però comunque per come è possibile incidere il più possibile essere a disposizione della squadra ti ha dato se te lo ha dato qualche consiglio tuo fratello Giovanni che insomma la serie C l'ha fatta adesso è in serie D lui sa essendo mio fratello sa le doti che ho quindi sa anche i miei diciamo difetti caratteriali ovvero che al minimo errore magari abbasso la testa o robe simili quindi mi ha detto visto che non giochi da tanto comincia piano piano poi dopo quando prendi fiducia provi tutto quello che pensi però prima di tutto devi ritrovare la condizione e la fiducia soprattutto in te stesso c'è qualche rimpianto nel tuo percorso in maglia rossonera avresti non lo so sognato qualcosa di diverso rimpianto no arrivato poi in primavera era diventato tra virgolette il momento di diventare un po' più protagonista quindi poi sono andato via sia per scelta mia che anche perché il progetto non era adatto per me vediamo ora gli appuntamenti di questo weekend per quanto riguarda calcio a 5 e pallavolo partiamo dal calcio a 5 in a testa coda domani alle 16 tra Genova e Acqua e Sapone Unigros ma il match clou sono tre alle 18 scontro salvezza al palarigopiano tra Color Max e Aniene mentre in campo femminile domenica in Serie A la vice capolista Montesilvano alle 16 ospiterà l'imbattuta leader Falconara in a2 infine la capolista Francavilla giocherà a Rimini dove affronterà l'inseguitrice Virtus Romagna passiamo ora al volley in a2 la sie cortona anticiperà domani alle 18 la gara col Brescia per preservare la quinta piazza insidiare la quarta in a3 cercherà un pronto riscatto la Bapineto che riceverà domenica alle 17 il Palmi non si giocherà in B fatta eccezione per il Pescara 3 ospite domani del fermo e con questo concludiamo questa edizione del TG6 servizi che avete visto potete trovarli se vorrete sul nostro canale Youtube sul sito tv6.it il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 23 con l'edizione della notte grazie una buona serata grazie a tutti